PEGI 18 Mio caro corpo, che triste destino il tuo. La nostra amata imperatrice è morta e tutti pensano che tu l'abbia uccisa. Ma noi sappiamo cos'è successo, vero? Non vorrai morire accompagnato dalle urla di centinaia di idioti, giusto? Vediamo se possiamo migliorare la situazione e rendere le cose più interessanti. Il mio simbolo. Consideralo un dono. A tutti i membri della milizia, siamo in stato di allarme. Fate attenzione e fermate ogni persona sospetta. Attenzione cittadini, per ordine dell'ordere gente e della milizia, l'accesso a tutti gli edifici contaminati è interdetto. Sintomi di malattia e pestle vanno immediatamente comunicati alle autorità. In nome dell'ordere gente e del Parlamento, tutti gli agenti devono essere denunciati. Disperdeteli. A favore, no! Prego! No! No! A presto! A presto! La vendetta non risolverà nulla! La vendetta non risolverà nulla!